La fiducia in se stessi è un sentimento di fiducia nelle proprie capacità, qualità e capacità di giudizio. Le ricerche suggeriscono che la fiducia in se stessi è importante per la salute e il benessere psicologico.1 Imparate a essere più sicuri di voi stessi a raccogliere i benefici derivanti dall'aumento della fiducia e della convinzione in voi stessi. Che cos'è la fiducia in se stessi? La fiducia in se stessi può riferirsi a un senso generale di fiducia nella propria capacità di controllare la propria vita, oppure può essere più specifica per ogni situazione. Ad esempio, potreste avere un'elevata fiducia in voi stessi in una particolare area di competenza, ma sentirvi meno sicuri in altre aree. Avere un buon livello di fiducia in se stessi può aiutare ad avere più successo nella vita personale e professionale. Alcune ricerche hanno rilevato, ad esempio, che le persone più sicure di sé tendono a ottenere maggiori risultati a livello accademico.3 La fiducia in se stessi può anche giocare un ruolo nella motivazione a perseguire i propri obiettivi. Alcuni studi hanno messo in relazione livelli più elevati di fiducia in se stessi negli atleti con una maggiore motivazione a praticare lo sport di loro scelta.4 Il livello di fiducia in se stessi influenza anche il modo in cui ci si presenta agli altri. Come essere più sicuri di sé Fortunatamente esistono diversi modi per aumentare la fiducia in se stessi. Sia che manchiate di fiducia in un'area specifica, sia che facciate fatica a sentirvi sicuri di voi stessi in qualsiasi cosa, questi 9 consigli possono aiutarvi. Smettete di paragonarvi agli altri. Paragonate il vostro aspetto alle persone che seguite su Instagram? O forse paragonate il vostro stipendio a quello dei vostri amici? La teoria del confronto sociale spiega che fare paragoni è naturale. Ma non è detto che contribuisca a rafforzare la vostra autostima. Potrebbe addirittura avere l'effetto opposto. Uno studio del 2018 pubblicato su Personality and Individual Differences ha rilevato un legame diretto tra l'invidia e la percezione di noi stessi. In particolare, i ricercatori hanno notato che quando le persone si confrontano con gli altri, provano invidia. E più l'invidia è forte, peggio si sente con se stessi. Come si fa a rafforzare la fiducia in se stessi quando si nota che si fanno paragoni? Innanzitutto, ricordate a voi stessi che non è utile. Ognuno fa la sua corsa e la vita non è una gara. Se vi sentite invidiosi della vita di qualcun altro, è utile ricordare anche i vostri punti di forza e i vostri successi. Tenete un diario della gratitudine per ricordare meglio le aree della vita in cui siete fortunati. Questo può aiutarvi a concentrarvi sulla vostra vita piuttosto che su quella degli altri. Circondatevi di persone positive. Prendetevi un momento per pensare a come vi fanno sentire i vostri amici. Vi sollevano o vi buttano giù? Vi giudicano costantemente o vi accettano per quello che siete? Le persone con cui passate il tempo possono influenzare i vostri pensieri e atteggiamenti su voi stessi, forse più di quanto pensiate. Prestate quindi attenzione a come vi fanno sentire gli altri. Se dopo aver frequentato una persona in particolare vi sentite male con voi stessi, forse è il caso di dirle addio. Circondatevi invece di persone che vi amano e che vogliono il meglio per voi. Cercate altri che siano positivi e che vi aiutino a rafforzare la vostra fiducia in voi stessi. La fiducia in se stessi e un atteggiamento positivo vanno di pari passo. Prendetevi cura del vostro corpo Questo consiglio per essere più sicuri di se si basa sull'idea che è difficile sentirsi bene con se stessi se si abusa del proprio corpo. Quando vi prendete cura di voi stessi, sapete che state facendo qualcosa di positivo per la vostra mente, il vostro corpo e il vostro spirito e, di conseguenza, vi sentirete naturalmente più sicuri di voi stessi. Ecco alcune pratiche di autocura collegate a livelli più elevati di fiducia in se stessi. 7. Dieta Un'alimentazione sana comporta molti benefici, tra cui livelli più elevati di fiducia e autostima. Quando si alimenta il corpo con cibi ricchi di sostanze nutritive, ci si sente più sani, più forti e più energici, il che può portare a sentirsi meglio con se stessi. Esercizio fisico Per esempio, uno studio del 2016 ha rilevato che un'attività fisica regolare ha migliorato l'immagine corporea dei partecipanti. E quando la loro immagine corporea migliorava, si sentivano più sicuri di 6.8. Meditazione Più che una pratica di rilassamento, la meditazione può aiutare a rafforzare la fiducia in se stessi in diversi modi. Innanzitutto, aiuta a riconoscere e ad accettare se stessi. La meditazione insegna anche a smettere di parlare di sé in modo negativo e a disconnettersi dalle chiacchiere mentali inutili che interferiscono con la fiducia in se stessi. Dormire Dormire poco può avere ripercussioni sulle emozioni. Al contrario, un sonno di buona qualità è stato collegato a tratti positivi della personalità, tra cui l'ottimismo e l'autostima. 9. Prendersi cura di sé è importante per la fiducia in se stessi. Assicuratevi di ricevere ciò che vi serve per sentirvi bene con voi stessi e con le vostre capacità. Siate gentili con voi stessi. L'autocompassione consiste nel trattare se stessi con gentilezza quando si commette un errore, si fallisce o si subisce una battuta d'arresto. Permette di diventare più flessibili dal punto di vista emotivo e aiuta a gestire meglio le emozioni difficili, migliorando il legame con se stessi e con gli altri. Uno studio del 2015 ha messo in relazione l'autocompassione con la fiducia in se stessi. 10. Quindi, la prossima volta che vi troverete in una situazione difficile, riconoscete che essere imperfetti o non all'altezza a volte fa parte dell'essere umano. Fate del vostro meglio per affrontare queste esperienze con compassione verso voi stessi. Praticare un discorso positivo su di sé. L'autocritica negativa può limitare le vostre capacità e diminuire la fiducia in voi stessi, convincendo il vostro subconscio che non siete in grado di affrontare qualcosa o che è troppo difficile e che non dovreste nemmeno provarci. 11. L'autocritica ottimistica, invece, può favorire l'autocompassione e aiutarvi a superare i dubbi e ad affrontare nuove sfide. La prossima volta che iniziate a pensare che non avete il diritto di parlare in una riunione o che siete troppo fuori forma per allenarvi, ricordatevi che i vostri pensieri non sono sempre accurati. Poi trovate un modo per trasformare questi pensieri in un discorso più positivo su di voi. Ecco alcuni esempi di modi per sfidare l'autocritica pessimistica e riformulare i vostri pensieri in modo più positivo, aumentando così la vostra autostima. Non posso farcela o è impossibile diventa posso farcela o devo solo provarci. Non riesco a fare nulla di buono diventa posso fare meglio la prossima volta o almeno ho imparato qualcosa. Odio parlare in pubblico diventa non mi piace parlare in pubblico e ognuno ha punti di forza e di debolezza. Affrontate le vostre paure. Smettete di rimandare le cose fino a quando non vi sentirete più sicuri di voi stessi, come chiedere un appuntamento a qualcuno o candidarvi per una promozione. Uno dei modi migliori per aumentare la fiducia in se stessi in queste situazioni è affrontare le proprie paure.Di. Esercitatevi ad affrontare alcune delle vostre paure che derivano dalla mancanza di fiducia in voi stessi. Se temete di mettervi in imbarazzo o pensate di sbagliare, provateci comunque. Un por di autoincertezza può persino aiutare a migliorare le prestazioni.13 dite a voi stessi che è solo un esperimento e vedete cosa succede. Potreste imparare che essere un por ansiosi o commettere qualche errore non è così negativo come pensavate. E ogni volta che si va avanti, si acquista maggiore fiducia in se stessi. Alla fine, questo può aiutarvi a evitare di correre rischi che porterebbero a gravi conseguenze negative. Fare le cose in cui si è bravi Cosa succede quando si fanno cose in cui si è bravi? La fiducia in se stessi inizia a salire. I vostri punti di forza diventano ancora più forti e ciò contribuisce a migliorare la fiducia in voi stessi. Questo approccio ha anche un altro vantaggio, può aumentare la soddisfazione per la propria vita. Uno studio ha rilevato che credere nella propria capacità di costruire sui punti di forza personali e moderatamente correlato ai livelli di soddisfazione della vita.15 si comincia con l'identificare quali sono i punti di forza. Poi, lavorate per rafforzarli impegnandovi regolarmente. Se siete bravi in un certo sport, ad esempio, fate in modo di allenarvi o giocare almeno una volta alla settimana. Se siete bravi in un particolare compito al lavoro, cercate di farlo più spesso. Anche la valorizzazione dei propri punti di forza può aiutare a rafforzare la fiducia in se stessi. Sapere quando dire di no Se è vero che fare cose in cui siete bravi può dare una spinta alla vostra autostima, è altrettanto importante riconoscere le situazioni che possono far crollare la vostra fiducia. Forse vi accorgete che ogni volta che partecipate a una certa attività, vi sentite peggio con voi stessi invece di migliorare. Dire di no alle attività che tendono a far crollare la fiducia in se stessi va bene. Certamente non dovete evitare di fare qualcosa che vi faccia sentire a disagio, perché il disagio è spesso parte del processo di crescita personale. Allo stesso tempo, non c'è nulla di male nel conoscere i propri limiti e nel rispettarli. Stabilire dei limiti sociali ed emotivi permette di sentirsi più sicuri psicologicamente. Può anche aiutare a sentirsi più padroni di sé. La fiducia in se stessi è, in parte, la sensazione di avere il controllo sulla propria vita. 16. I limiti aiutano a stabilire questa sensazione di controllo. La prossima volta che qualcuno vi suggerisce di fare qualcosa che sapete ridurrà la vostra autostima, rifiutate con rispetto. Non dovete nemmeno evitare quell'attività per sempre. Una volta che avrete imparato a essere più sicuri di voi stessi, potrete sentirvi abbastanza forti da provare di nuovo, senza che questo danneggi la fiducia che avete in voi stessi. Stabilire obiettivi realistici. Per seguire i propri obiettivi spesso implica fallire più volte fino a capire cosa funziona. Questo può farvi chiedere se avete le carte in regola per avere successo. Può anche farvi chiedere come essere più sicuri di voi stessi e allo stesso tempo realizzare i vostri sogni. La risposta sta nel fissare obiettivi realistici. È stato dimostrato che fissare obiettivi ambiziosi e non raggiungerli danneggia i livelli di fiducia in se stessi. 17. Al contrario, gli obiettivi realistici sono raggiungibili. E più si raggiungono gli obiettivi, più aumenta la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Per fissare obiettivi realistici, scrivete ciò che volete raggiungere. Poi chiedetevi che possibilità avete di raggiungerlo, siate onesti. Se la risposta è 0 o 0, l'obiettivo potrebbe essere un POR troppo ambizioso. Ridimensionatelo in modo che sia più realistico e realizzabile. A questo scopo potrebbe essere necessario fare un POR di ricerca da parte vostra. Per esempio, se avete l'obiettivo di perdere peso, gli esperti raccomandano di perdere da 1 a 2 chili a settimana per una perdita di peso sana e a lungo termine. 18. Sapere questo vi aiuta a fissare un obiettivo in linea con questa linea guida, aumentando la vostra fiducia in voi stessi quando lo raggiungete. Fiducia in se stessi e in sicurezza. Quando si impara a essere più sicuri di sé, può essere utile capire come una persona sicura di sé sia diversa da una persona più insicura. Ecco alcune delle differenze tra i due. Persone sicure di sé. Celebrano il successo degli altri. Sono di mentalità aperta. Ottimiste. Disposte a correre rischi. Ridono di se stessi. Decisivo. Imparare e crescere sempre. Ammettere gli errori. Accettare le responsabilità. Invece le persone insicure. Giudicano e sono gelose degli altri. Mentalità chiusa. Pessimista. Hanno paura del cambiamento. Nascondono i difetti. Indecisi. Si comportano come se sapessero tutto. Accampare scuse. Incolpare gli altri. Vantaggi della fiducia in se stessi. Avere fiducia in se stessi è una bella sensazione. Detto questo, avere fiducia in se stessi può portare molti altri benefici a casa, al lavoro e nelle relazioni. Ecco alcuni degli effetti positivi dell'imparare a essere sicuri di sé. Migliori prestazioni, invece di sprecare tempo ed energie preoccupandovi di non essere abbastanza bravi, potete dedicare le vostre energie ai vostri sforzi. In ultima analisi, le prestazioni saranno migliori quando si avrà più fiducia in se stessi. 19. Relazioni più sane, avere fiducia in se stessi non solo influisce su come ci si sente, ma aiuta a capire meglio e ad amare gli altri. Inoltre, vi dà la forza di abbandonare una relazione se non ottenete ciò che volete o meritate. 20. Apertura a provare cose nuove, quando si crede in se stessi, si è più disposti a provare cose nuove. 21. Se vi candidate per una promozione o vi iscrivete a un corso di cucina, mettervi in gioco è molto più facile quando avete fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. 22. Resilienza, credere in se stessi può aumentare la propria resilienza o la capacità di riprendersi da qualsiasi sfida o avversità che si incontra nella vita. 23. Tutti, prima o poi, lottano con problemi di fiducia in se stessi. 24. Fortunatamente, ci sono diverse cose che si possono fare per aumentare la fiducia in se stessi. 25. In molti casi, imparare a comportarsi con sicurezza può aiutare a sentirsi più sicuri. 26. A volte la scarsa fiducia in se stessi è un segno di una condizione di salute mentale come la depressione o l'ansia. 27. Se la fiducia in se stessi interferisce con il lavoro, la vita sociale o l'istruzione, è bene rivolgersi a un professionista della salute mentale. 28. Un terapeuta può aiutarvi a capire meglio il problema, consigliarvi un trattamento e lavorare con voi per sviluppare le abilità necessarie per aumentare la fiducia in voi stessi. 28. Un 20%